gentili telespettatori buona giornata su un giornale viene fuori questa domanda ma mario draghi senza matteo salvini cosa farebbe diventerebbe il leader della sinistra dei giallorossi come si dice non lo so probabilmente potrebbe avere più influenza da parte della sinistra non essendoci più salvini al governo ma potrebbe invece diventare un monarca assoluto nel senso che lui decide tutti gli altri eseguono fedelmente non ci sarebbe più nessuno che chiede qualcosa che dice qualcosa di diverso diventerebbe un monologo dove draghi arriva in consiglio dei ministri tutti applaudono si fa così tutti applaudono e finisce il consiglio dei ministri quindi non sono assolutamente sicuro che diventi il leader di un governo giallorosso o un governo di sinistra perché ha dimostrato di non considerare minimamente i partiti io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata